Sono sulla strada tutti i giorni ma gli agenti della polizia stradale di Frosinone una cosa del genere non l'avevano mai vista. Un tiriveco superstar truccato con la sostituzione del motore, 1500 cavalli del cambio e dell'impianto frenante. Lo hanno fermato in aume in territorio del comune di Ferentino perché insospettiti dalla velocità sostenuta e dal fumo dagli scarichi. E da un'indagine su un profilo social del camionista è saltato fuori un filmato che documenta il sorpasso del tir a 160 km all'ora a un'automobile in autostrada. Patente sospesa con deportazione di 23 punti, carta di circolazione ritirata, multa di 4.300 euro e obbligo di revisione. Grazie per la visione!